Non si deve stare tutte quante noi distinte e separate lì a lavorare e basta, ci vuole una grande rete e dobbiamo stare tutte uniti perché io penso che le scuole del lago Trasimeno saranno le perle del Trasimeno e saranno le sorelle del Trasimeno, il Tulle, il Filè e il punto Irlanda. Queste dovrebbero diventare le perle del Trasimeno, naturalmente i punti Perugia e Pischiello che saranno da contorno nelle tovaglie eccetera, però queste tecniche che andavano scomparendo, ripeto, devono continuare a vivere per il terzo millennio e dovranno diventare un orgoglio del lago Trasimeno.